Cosa starò preparando oggi? Ve lo dico subito, peperoni ripieni di carne. È una ricetta della nonna che però vedremo in chiave light. Allora, la carne macinata c'è, carne di tacchino bella magra, i peperoni ci sono, li ho tagliati in due, l'uovo, lo stavo sbattendo prima, poi un po' di pepe, di erba cipollina e di sale. Adesso bisogna assemblare tutto. Mettiamo l'uovo. Oh, sono spurtato. Vabbè. Mettiamo un pochettino di sale senza esagerare che sapete la storia della ritenzione idrica è tutta vera. Erba cipollina. Ok, abbiamo tutto. Adesso possiamo assemblare i peperoni. Allora, facciamo con le mani, va un po' più rustico. Ok. Questi sono belli grandi, eh. Quindi, belli che contengono bene. Non so quanti ne farò. Vediamo un po'. Vediamo uno. Una parte mezzo giallo e mezzo rosso. Le cose colorate, secondo me, sono anche più buone. Questa non serve più. Ok, ci sono quasi. Allora, siccome mi erano avanzati dei peperoni, li ho tagliati a striscioline, un po' di sale e di olio. E ora metto tutto in forno finché non mi garba. Ok, sono pronti. Eccoli.